Altro che briciole per il capoluogo l'Aquila, il Masterplan per il Sud, che il governo Renzi ha di fatto approvato per la parte dedicata all'Abruzzo, prevede oltre 60 interventi per un investimento complessivo che supera gli 1,2 miliardi e di questi 80 milioni di euro sono per opere localizzate nel capoluogo e nel suo comprensorio. A ribadirlo a chiare lettere, oggi il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, affiancato dal Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dal Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Un lavoro di questo livello di programmazione in Abruzzo non si è mai fatto, bisogna tornare ai tempi del grande mattucci. C'è l'integrale copertura finanziaria che tra l'altro questa sera in cabina di regia a Palazzo Chigi definiremo. Noi per quanto riguarda l'Aquila abbiamo mantenuto esattamente gli impegni assunti di cui anche al mio intervento al Consiglio Comunale dell'Aquila. Ci sono risorse adeguate per potenziare l'infrastruttura per il cicloturismo e le ciclovie anche della montagna, dell'entroterra e della collina del fiume Aterno. Ci sono risorse importanti per quanto riguarda l'ex psichiatrico. Ci sono le risorse riguardanti Abruzzo Regione della Vista. Ci sono risorse significative riguardanti anche il potenziamento del sistema della viabilità, il sistema idrico e fognario e il sistema anche della copertura della banda ultralarga. Pietrucci ricorda poi che nel Masterplan non poteva esserci l'universo mondo. L'importante è che ci siano opere strategiche utili per il territorio. E finalmente sono state recepite quelle che erano le indicazioni. È stato messo nero su bianco. Noi abbiamo detto che avremmo fatto una conferenza stampa, non appena avremmo avuto il documento che certificava gli interventi che noi ritenevamo indispensabili, oltre quelli giustissimi, che aveva già messo il Presidente della Regione Abruzzo. Pensare che il Masterplan potesse contenere tutte le misure che servivano al territorio aquilano era una follia. Però il Masterplan, oltre a una serie di altri interventi, fuori il Masterplan, tra cui quella legata alle infrastrutture, la sua strada dell'Aquilamatrice, è stata alle 17, la legge dell'Aquilacittà Capuloco che nei prossimi giorni dovrebbe essere approvata, addirittura il finanziamento dei 4,7 milioni in aggiunta ai 2,5 della donazione dell'Emilia Romagna per l'elisoccorso della centrale unica del 118, io penso che ci possiamo ritenere veramente soddisfatti. L'Aquila sull'orlo del Baratro con un buco nel bilancio da 24 milioni di euro è la concreta ipotesi che in autunno si dovranno aumentare le tasse su rifiuti del 20%. In una città inoltre è sempre più preda della microcriminalità. L'apocalittico scenario è stato illustrato oggi dai consiglieri di opposizione Guido Liris, Alessandro Piccinini, Giorgio De Matteis, Raffaele Daniele e Pierluigi Propersi. Siamo 24 milioni di euro sotto, il 30 di aprile si chiuderà il bilancio, o almeno dovrebbe chiudersi il bilancio, non si sono ancora riunite le commissioni propedeutiche alla chiusura del bilancio, non abbiamo ancora tempo per gli emendamenti, siamo 24 milioni di euro sotto, l'assessore competente dichiara che dovrà aumentare del 20% la tassa sui rifiuti in autunno e addirittura sarebbe stato necessario un aumento del 50%. Noi siamo assolutamente contrari a questo tipo di soluzione di una problematica di cui si era fatto carico il PD nazionale con Stefania Mezzomane, con la visita di Zanda, ma che non ha portato i risultati sperati. Altre emergenze è la sicurezza, la microcriminalità, detto Piccinini, sta sediando gli aquilani, servono più agenti di polizia perché la città è ora molto più estesa e delle telecamere più volte annunciate neanche l'ombra. Penultimo giorno di lavoro per l'Aquila di Modica, prima della partenza per Rimini, dove i rosso-blu si giocheranno le residue speranze per evitare play-out. Sul fronte formazione l'unica certezza è la conferma del 4-3-3. In difesa è pronto al rientro Giordano Maccarrone, che dovrebbe fare coppia con Piva. Sugli esterni, con Chirieletti fuori causa, Di Mercurio potrebbe tornare titolare, con Ligorio sul fronte Mancino. L'altro grande rientro rispetto al match di Siena è quello di Milicevic in mezzo al campo. Le sue geometrie e la sua visione di gioco saranno un tocca sana per la manovra dell'Aquila. A caccia di una maglia sulla mediana c'è anche De Francesco, lasciato in panchina da Modica per tutti i 90 minuti contro il Siena. L'ex Lazio si giocherà il posto con uno tra Bulevardi e Manuel Mancini. In attacco Perna è favorito su De Sousa, mentre Ceccarelli potrebbe tornare titolare dopo tantissimo tempo. Mancheranno di certo Pesoli per infortunio e Triarico per squalifica. Nel Rimini mancherà invece Nicola Mancino, appiedato per un turno dal giudice sportivo per recidività in ammunizioni. Intanto il pianeta L'Aquila può sorridere per la grande notizia arrivata ieri dalle giovanili. In particolare la formazione degli allievi nazionali guidata dal tecnico Alex Taribello si è qualificata aritmeticamente ai play-off. Ieri si è infatti disputato il recupero tra Roma e Foggia. La vittoria dei giallorossi ha qualificato la formazione aquilana che dunque a metà maggio parteciperà alle final eight di categoria. Risultato storico mai raggiunto per il vivaio rosso-blu del presidente Fabrizio Rossi al suo primo anno da numero uno delle giovanili. Grazie a tutti.